In attesa degli effetti del provvedimento dell'Unione Europea, bisogna aspettare ancora una ventina di giorni, gli uffici di competenza spianano la strada per i lavori di allungamento della pista. I lavori al Ginolisa dovrebbe farli l'impresa che fa capo all'imprenditore foggiano De Berlis, giunta terza alla gara di appalto dopo le prime due imprese eliminate per vicende fallimentari e ribasso praticato non adeguato. Il percorso per l'apertura del cantiere non è una cosa di poco conto, considerando tutti gli ostacoli da eliminare. Vediamo i passi che bisogna fare. Il primo dovrà farlo la stazione appaltante. Aeroporto Puglia deve superare i termini della sospensione della gara scaturiti dal congelamento dei fondi da parte della Commissione Europea. Aeroporto Puglia dovrà aggiudicare definitivamente la gara all'impresa De Berlis. Successivamente l'impresa dovrà farsi carico del progetto esecutivo e superare una serie di prescrizioni in tema di impatto ambientale. Ostacoli che sulla carta sembrano tutti superabili. Il problema più complesso da affrontare è quello dei conti che soprattutto l'impresa dovrà rifare. Dei 14 milioni di euro praticato in ribasso ne resterebbero poco più di 10. Con 10 milioni di euro bisogna pagare prima ai proprietari dei terreni espropriati, compresi gli atti notarili, circa 8 milioni di euro, e con il resto realizzare la nuova pista. Sarà ancora interessata l'impresa De Berlis?